Musica Ben ritrovati con questa nuova edizione Pavia del nostro telegiornale, vediamo subito i titoli nel sommario. Musica Mortara prova a cambiare la gestione della raccolta dei rifiuti dopo il fallimento del CLIR, il primo comune che prova a tornare ad una gestione pubblica della raccolta differenziata. Nel 2023 in provincia di Pavia i reati sono aumentati rispetto al 2022, con un incremento marcato di furti, rapine, minacce ed estorsioni, aumentano però anche i controlli della polizia. Lo abbiamo sentito in apertura, iniziamo il telegiornale con un incidente mortale che è avvenuto a Vigevano, uno scontro tra un'auto e un camion in corso Pavia a perdere la vita una donna di 51 anni, illeso il conducente del TIR. All'arrivo dei soccorritori purtroppo non c'era più nulla da fare. Una donna di 51 anni è deceduta in un incidente avvenuto mercoledì mattina sulla strada provinciale 206 nel tratto tra Vigevano e la frazione Sforzesca. Lo schianto si è verificato intorno alle 10.45, non lontano dal distributore di benzina. Due veicoli, un mezzo pesante e un'automobile, si sono scontrati per motivi ancora da chiarire. Dalle prime ricostruzioni dei vigili si tratterebbe di un frontale. Sul posto, oltre a diverse pattuglie della polizia locale, sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra, un'automedica e i vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, che era alla guida dell'auto. Non preoccupano invece le condizioni del conducente del camion, che è rimasto praticamente illeso. La strada è rimasta interrotta per diverse ore, creando lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Un altro incidente questa mattina a Caseil Gerola. Un camion è uscito fuori di strada, rovesciandosi sul fianco, a lato della statale 755. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.00. Non ci sono stati feriti, ma gravi ripercussioni sulla viabilità per via delle operazioni di rimozione del camion, iniziate intorno alle 9.30. La strada è stata riaperta alle 11.00 di mattina. Cambiamo argomento. Ancora una sommossa all'interno del carcere di Vigevano. Alcuni detenuti si sono rivoltati contro gli agenti della polizia penitenziaria. La denuncia dei sindacati. Rimane alta la tensione nelle carceri pavesi. Una nuova sommossa è avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì nel carcere di Vigevano. Coinvolti alcuni detenuti stranieri che hanno aggredito alcuni poliziotti, incendiando anche su pellettili e devastando le telecamere di videosorveglianza. La denuncia è arrivata dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Secondo quanto reso noto, alcuni poliziotti sono stati chiamati in servizio per riportare l'ordine e la sicurezza. Ma a farne le spese sono stati tre militari che nella sommossa in carcere sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso e l'ospedale di Vigevano. Un poliziotto ha rimediato 14 giorni di prognosi, gli altri due 9 giorni ciascuno. I sindacalisti chiedono un sopralluogo tecnico da parte del provveditorato regionale e un'ispezione dell'ASL per valutare l'idoneità del luogo di lavoro. Il segretario generale Donato Capece insiste sulla necessità di espellere detenuti stranieri, un terzo di quelli presenti in Italia, per fare scontare nelle carcere del loro paese le pene rimediate e la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari dove mettere detenuti con problemi psichiatrici. Capece sollecita infine la dotazione di taser per la polizia penitenziaria, utili in caso di aggressioni. A Pavia continua il processo nei confronti di Massimo Adriatici, l'ex assessore alla sicurezza di Voghera, accusato di eccesso di legittima difesa per aver sparato a Iones e il bussetta Ui. In aula i legali della parte civile hanno chiesto di mettere agli atti tutti i dati del cellulare dell'ex assessore. Gli avvocati di parte civile hanno chiesto di mettere agli atti del processo la copia di tutti i contenuti del telefono cellulare dell'ex assessore del comune di Voghera, Massimo Adriatici. La richiesta è avvenuta nel corso dell'udienza del processo che vede Adriatici accusato di eccesso colposo di legittima difesa per la morte di Iones e il bussetta Ui, ucciso da un colpo partito dalla pistola dell'ex assessore a seguito di una colluttazione che i due avevano avuto in piazza Meardi a Voghera la sera del 20 luglio 2021. Le parti civile sostengono di non avere mai avuto accesso a tutti i dati dello smartphone sequestrato e nella scorsa udienza un carabiniere aveva riferito di aver trovato Adriatici impegnato in una conversazione telefonica subito dopo il fatto, spiegando che l'ex assessore aveva sostenuto di essere in contatto con la questura. La difesa si è opposta alla messa agli atti della copia forense integrale del telefono, mentre il pubblico ministero si è detto disponibile a fornire alla parte civile alcuni contenuti in caso di esplicita richiesta. Per il resto udienza dedicata all'ascolto di testimoni. Si è ribadito che nessuna telecamera ha inquadrato il momento dello sparo. L'unica che era puntata nella giusta direzione aveva l'obiettivo annaquato da un temporale avvenuto tre giorni prima del fatto e da quel video non si riuscirebbe a capire nulla. Resta l'ormai famosa inquadratura dalla telecamera di uno studio immobiliare, con i soggetti che però escono dal quadro nel momento decisivo. Il gestore del bar di fronte, a quello davanti a cui è avvenuta la colluttazione e lo sparo, ha spiegato che in quelle settimane era terrorizzato da Younes Bussettaui, che più volte avrebbe pesantemente molestato i clienti del suo locale. Nel corso dell'udienza si è anche arrivati alla risoluzione di un piccolo giallo. Un testimone ha sostenuto di aver sentito gli avvocati della famiglia Airbusettaui parlare con alcune persone straniere in un bar, proferendo frasi del tipo «Se questa persona testimonia, per il permesso di soggiorno non c'è problema». Il testimone riferiva di una conversazione avvenuta pochi giorni dopo la morte di Younes, in un bar, al tavolino accanto a quello dove lui era seduto. La deposizione ha portato a una reazione piuttosto indignata dei legali tirati in ballo. L'avvocato Marco Romagnoli ha fatto sapere che, per le parole di quel testimone, la procura, al tempo, lo aveva messo sotto indagine, salvo poi a archiviare la sua posizione nel giro di un paio di settimane. Romagnoli ha consegnato al giudice Valentina Nevoso il verbale della conversazione con le persone di origine straniera a cui il testimone faceva riferimento, affermando di volersi difendere in ogni modo da quelle che ha definito illazioni. Allontanata dalla scuola, la prof che a Pavia aveva tenuto una lezione indossando una maglietta pro-palestina, una ragazza si era sentita offesa e i genitori si sono rivolti ad un legale. Non avrà più rapporti con la classe né con la studentessa che si era sentita offesa da quella t-shirt. La professoressa di Pavia che nelle scorse settimane aveva fatto lezione con una maglietta pro-palestina. Il caso aveva suscitato una serie di reazioni anche a livello nazionale. I genitori della ragazza, dopo aver segnalato l'episodio, si erano anche rivolti a un legale. La direzione scolastica nei giorni scorsi ha quindi deciso di allontanare la prof dalla classe, come riportato da quotidiano al giorno. L'avvocato Andrea Cascio ha precisato che però la questione non può ancora dirsi risolta. Secondo quanto ha spiegato il legale, la famiglia vorrebbe che la dirigenza scolastica e i professori prendessero una posizione e i genitori della studentessa chiedono rassicurazioni sul fatto che l'istituto disapprovi e contrasti fermamente qualsiasi forma di discriminazione, in particolare di natura antisemita. Il legale ha chiarito anche che non sono arrivati interventi da parte del Ministero dell'Istruzione. È stato poi proposto alla scuola di organizzare un ciclo di incontri sul conflitto israelo-palestinese con relatori che rappresentino il pensiero di ciascuna parte coinvolta, in modo da disinnescare approcci antisemiti e islamofobici. Per l'Avvocato Cascio, gli incontri dovrebbero avere un taglio psicopedagogico per far comprendere ai ragazzi l'importanza del rispetto reciproco, in modo da favorire lo sviluppo di un personale pensiero critico. I genitori della diciassettenne che aveva sollevato il caso si sono detti disponibili in questo senso ad aiutare la scuola nell'organizzazione degli incontri. Restiamo a Pavia perché solo sei consiglieri si sono presentati alla riunione organizzata dalla maggioranza per discutere ancora di tematiche relative al piano di governo del territorio. Non è mancata la polemica. Un vertice di maggioranza per spiegare come avverrà a livello pratico la votazione di convalida delle incompatibilità al PGT di Pavia. Dopo il passaggio in giunta di lunedì pomeriggio la tanto attesa delibera è stata illustrata dal sindaco Fracassi e dall'assessore all'urbanistica COCA i consiglieri di centrodestra o almeno a una parte di loro. Al vertice, convocato martedì sera a Palazzo Mezzabarba, si sono presentati infatti soltanto sei consiglieri su 18 totali. Si tratta di Daniele Travaini e Roberto Tilocca della Civica Pavia Ideale, Giovanni De Maria e Gian Matteo Rona di Forza Italia e di Daniele Comini e Rosangela Vaghi della Lega. assente in blocco il gruppo di Fratelli d'Italia ma non si tratta di ripicche o mal di pancia, ha tenuto a precisare il presidente del Consiglio Comunale Nicola Gnutta. La riunione è stata convocata con appena 24 ore di preavviso e vi erano impegni progressi non rinviabili. Posso parlare a titolo personale però mi sento come dire di poter spendere una parola anche per i miei colleghi di gruppo nel dire che purtroppo da tanto tempo a questa parte c'è un brutto vizio ovvero quello di convocare le riunioni di maggioranza da un giorno con l'altro e far alternare momenti invece settimane intere di silenzio e di alcun tipo di comunicazione. Questa riunione è stata convocata da un giorno con l'altro come io purtroppo chiedo da tempo di non fare. L'assenza dei rappresentanti di Fratelli d'Italia ha comunque fatto discutere soprattutto in alcune chat interne al centro-destra che messaggio si comunica alla città in fase di campagna elettorale il assunto dei principali interrogativi posti in coalizione visto che alcune divisioni restano. Nel frattempo l'iter del PGT seppur a fatica avanza e mercoledì sera proderà in commissione. Giovedì quindi il Consiglio Comunale sarà chiamato a sanare le incompatibilità denunciate dai sei consiglieri di maggioranza e opposizione oltre al sindaco Fabrizio Fracassi. Se il centro-destra riuscirà a superare questo scoglio avrà ancora due sedute a disposizione il 15 e il 22 aprile per approvare nel suo complesso la variante un passaggio tutt'altro che scontato. Restiamo sulla politica ma andiamo a Casteggio dove ancora non ci sono certezze sulle alleanze in vista dell'elezione del prossimo primo cittadino. La campagna elettorale a Casteggio seconda cittadina dell'oltrepò pavese al voto per numero di abitanti entra sempre più nel vivo. Dopo l'appoggio ricevuto da Fratelli d'Italia con la capogruppo in consiglio Valeria Chioda che ha sostenuto la candidatura del sindaco uscente Lorenzo Vigo c'è grande fermento nel centrodestra area di riferimento di Vigo da sempre vicino a Forza Italia le segreterie provinciali dei partiti sembrano infatti sempre più orientate a garantire il supporto al primo cittadino uscente Jacopo Vignati per la Lega Pavese ha espresso parole di stima nei suoi confronti pur avendo appoggiato il suo sfidante Salvatore Seggio alle ultime elezioni del 2019 e ha parlato di un amministratore concreto e capace disponibile al confronto da Forza Italia il neosecretario Gagliani prende tempo spiegando che il partito ha iniziato ad ascoltare le varie posizioni che emergono dalla città la vicinanza di Vigo al deputato Alessandro Cattaneo avversario interno di Gagliani all'ultimo congresso e l'asserito attivismo dell'ex sindaco Callegari anche gli storico forzista a sostegno dello sfidante di Vigo ad oggi non ancora ufficializzato Andrea Mussi leghista della prima ora complicano però il quadro tant'è che ad oggi nonostante l'auspicio di un centrodestra unito non ci sono certezze all'ombra del pistornile Valeria Chioda capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio subentrata come assessore all'urbanistica dopo le dimissioni di Andrea Mussi nell'aderire al progetto Vigo Sindaco ha infatti parlato del primo cittadino uscente come del federatore del centrodestra Casteggiano le prossime settimane saranno decisive La città di Mortara prova a cambiare la gestione della raccolta di rifiuti sarebbe così il primo comune a passare alla gestione pubblica dopo il fallimento dell'ex consorzio del CLIR Mortara tenta la svolta sulla gestione della raccolta rifiuti un servizio che in città e in gran parte della Lomellina ha spesso generato polemiche polemiche che si sono poi acquite dopo il fallimento dell'ex consorzio CLIR l'azienda esterna che gestiva l'appalto della differenziata nei comuni soci tra questi Mortara il comune socio con più azioni in mano al CLIR zavorrato dai debiti e che ha smesso di essere operativo quasi due anni fa la giunta guidata dal sindaco Ettore Gerosa con una delibera di indirizzo affidato alla municipalizzata S. Mortara di valutare la fattibilità della gestione in house dei rifiuti vale a dire un servizio gestito internamente senza gara d'appalto sulla gestione dei rifiuti a Mortara c'erano state diverse battaglie politiche le opposizioni in consiglio comunale con in testa rifondazione comunista vista la fallimentare esperienza del CLIR avevano più volte chiesto all'amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Marco Facchinotti di fare in modo che il servizio rifiuti fosse gestito pubblicamente al momento il servizio della differenziata Mortara è gestito dall'azienda Sangalli che ha in mano l'appalto fino al 5 febbraio 2025 con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi con scadenza il 5 agosto successivo la Sangalli è la stessa dita a cui si sono rivolti buona parte dei comuni soci esternalizzando la gestione dei rifiuti dopo il fallimento del CLIR l'intenzione del comune di Mortara ora è quella di riorganizzare la raccolta porta a porta lo spazzamento stradale e la manutenzione del verde pubblico servizi che verrebbero consegnati a un'unica società controllata dall'ente pubblico da cui la scelta di S. Mortara società controllata dal comune che gestisce già la piazzola ecologica e lo spazzamento delle strade società che dovrà verificare che l'affidamento omnicomprensivo di tutti i servizi sia economicamente fattibile e che sussistano i requisiti di legge per ora quella della giunta di Mortara è soltanto una proposta che però nei prossimi mesi potrebbe diventare qualcosa di più concreto a Vigevano in comune si è tenuta una commissione ad hoc per parlare della crisi del settore calzaturiero vigevanese e diversi gli spunti che sono emersi Vigevano rappresentano un momento in cui ci si raffronta senza la faziosità tipica invece più del Consiglio Comunale le idee noi abbiamo prodotto un documento nel quale suggeriviamo qualche ipotesi che poteva essere abbiamo chiamato il documento salviamo salvabile e oltre perché salvare salvabile significa salvare ciò che rimane del comparto calzaturiero con l'alta qualità e eventualmente pensare anche a dei progetti di formazione che sono indispensabili per mantenere questo livello qualitativo sul territorio purtroppo le cose da fare sono tante andava fatta forse tanto tempo fa sicuramente adesso bisogna fare azioni per tutelare l'occupazione il settore calzaturiero è in crisi tante aziende sono in crisi io stesso ho potuto vedere nelle scorse settimane manovie ferme e quindi vanno poste a essere azioni subito però nello stesso tempo servono queste commissioni per parlare della Vigevano del futuro di cosa avverrà per noi servono informazioni serve il turismo e serve puntare su nuovi settori perché comunque Vigevano deve guardare al futuro e deve guardare a nuove prospettive anche al di fuori della nostra città collegandosi con realtà con prospettive migliori il sindaco Andrea Ceffa ha ricordato poi che si sta progettando il nuovo piano di governo del territorio il PGT non sarà solo una soluzione momentanea ma lo stiamo modellando per i prossimi 10 o 15 anni sarà lì che arriveranno i benefici del lavoro di oggi ha detto il primo cittadino per una città del futuro bisogna pensare però anche alle nuove tecnologie creare una smart city e prestare attenzione a nuove professionalità potrebbe attirare investimenti sul tema dell'agganciarsi a Milano è intervenuta anche Barbara Verza di Italia Viva che ha commentato Vigevano avrebbe dovuto unirsi a Milano dieci anni fa se avesse preso quel treno ora la situazione sarebbe diversa la regione aveva proposto di creare una filiera della calzatura unendo i distretti di Vigevano e Parabiago per avere i finanziamenti regionali però bisogna prima preparare un progetto concreto che al momento non c'è furti, rapine e minacce di estorsione nel 2023 i reati a Pavia sono aumentati crescono però anche i controlli della polizia nel 2023 in provincia di Pavia i reati sono aumentati rispetto all'anno precedente e quanto emerge dal report della Banca Dati Interforze presentato nel corso della celebrazione della festa della polizia di Stato al netto degli omicidi dei tentati omicidi e delle violenze sessuali si è registrato infatti un incremento piuttosto marcato di furti, rapine minacce ed estorsioni sul nostro territorio allo stesso tempo però sono aumentate anche le attività messe in campo da parte della Questura il personale dei vari reparti lo scorso anno ha controllato più di 20.000 persone e al centralino del 113 sono arrivate oltre 12.000 chiamate anche gli agenti della polfera hanno assicurato un'attività di controllo costante nelle stazioni di Voghere e Pavia svolgendo inoltre servizi periodici contro i furti di rame lungo le linee in aumento anche le multe combinate dal personale della polizia stradale passate dalle 7.450 del 2022 alle oltre 8.500 dello scorso anno durante le celebrazioni a Pavia sono stati poi premiati gli agenti che si sono distinti maggiormente in servizio e che hanno portato a termine operazioni particolarmente complesse al termine della mattinata e infine Stefano Bressani ha donato una delle sue teste d'artista alla Questura Alla festa della Polizia di Stato era presente anche il nuovo Questore di Pavia Nicola Falvella sentiamo le sue parole voglio che cittadini e istituzioni sappiano che le porte della Questura sono sempre aperte per tutti così come la mia è aperta per i miei collaboratori è il punto centrale del discorso del Questore di Pavia Nicola Falvella che si è rivolto così al pubblico in occasione delle celebrazioni per i 172 anni della Polizia di Stato ora più che mai è fondamentale il concetto di esserci sempre ha spiegato Falvella in effetti i dati sono importanti perché rappresentano matematicamente il risultato ma il vero risultato è quello di sapere che la gente sa che quando ha bisogno della Questura la Questura c'è questo è il concetto di esserci sempre questo è il concetto di una Questura con le porte aperte il cittadino che ha bisogno deve sapere che quando verrà in Questura troverà una porta aperta un operatore pronto ad ascoltarlo Il Questore ha poi sottolineato che grazie alla collaborazione con le altre forze dell'ordine sono state potenziate le attività di controllo del territorio a Pavia e in tutta la provincia Devo dire che qui il sistema tra le forze di polizia funziona ci confrontiamo e mettiamo in atto dei piani di controllo del territorio coordinati con l'arma dei carabinieri la guardia di finanza e la polizia locale che rendono la città più sicura ma soprattutto che danno ai cittadini anche visibilmente più forte la presenza delle forze di polizia sul territorio Una battuta infine sul suo rapporto con la città di Pavia Falvella è entrato in servizio nel dicembre scorso dopo un lungo incarico a Parigi in veste di ufficiale di collegamento L'ultima battuta su questi primi quattro mesi in città insomma come sono stati devo dire sono stati belli Pavia mi ha affascinato in un certo senso non vi svelerò perché mi ha rubato un pizzico del mio cuore quindi sicuramente una bellissima esperienza e spero che continui così In Lombardia la qualità dell'aria è fuori controllo colpa del PM10 oltre i limiti in sei capoluoghi Valori di particolato sottile PM10 superiori alla norma in sei capoluoghi Lombardi su 10 con Pavia che si salva per così dire dalla maglia nera ma non c'è molto da sorridere stando ai dati forniti da Arpa Lombardia infatti il primo trimestre 2024 si chiude con un quadro impietoso della qualità dell'aria respirata dai cittadini Lombardi lo scrive Lega Ambiente in una nota l'aria peggiore si è registrata nell'ordine a Monza Cremona Brescia Mantova Lodi e Milano nei sei capoluoghi appena indicati la concentrazione media di PM10 ha superato i 40 microgrammi al metro cubo valore soglia indicato dalla norma europea come media annua situazione appena migliore a Bergamo e Pavia e poi nelle città pedemontane di Como Varese Sondrio e Lecco in ogni caso nessuna di queste città ha fatto registrare valori inferiori a quelli previsti dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria che una volta entrata in vigore abbasserà la media annua a 20 microgrammi al metro cubo spiega ancora l'associazione ambientalista che poi definisce altrettanto sconsulante il dato relativo al numero di giorni in cui l'aria è risultata irrespirabile facendo registrare valori superiori ai 50 microgrammi al metro cubo come media giornaliera per Pavia scrive Legambiente è improbabile che l'anno si concluda senza il superamento della soglia tra le fonti di inquinamento principali per la Lombardia e la pianura padana ovviamente il traffico urbano e autostradale ma anche quello che deriva dall'agricoltura in particolare dagli allevamenti intensivi anche se manca solo un anno alla ricorrenza dei 500 anni della battaglia di Pavia non è ancora stato previsto nessun intervento per il recupero del castello di Mirabello monumento centrale per quel capitolo di storia anche il leader di azione Carlo Calenda durante la sua visita elettorale a Pavia dei giorni scorsi ha chiesto di poter visitare il castello di Mirabello una richiesta inaspettata ma altrettanto gradita da chi come Marco Galandra da anni studia la storia della battaglia di Pavia apprezzamenti politici a parte il futuro del castello è tutt'altro che erosio siamo tornati a Mirabello per un breve sopralluogo a sei mesi dall'ultima volta al di là dell'ordinaria manutenzione dell'area del parco nulla è stato ancora previsto per il suo recupero a cominciare dalla sistemazione del cancello annunciata già da alcuni mesi ma non solo i piccioni sono tornati ad affollare e sporcare gli spazi interni dell'antica struttura eppure la zona di Mirabello è centrale nella storia della battaglia di Pavia attesa il prossimo anno dalle celebrazioni dei 500 anni purtroppo il cancello che doveva essere sistemato è ancora lì non sono ancora cominciati i lavori per sistemare la seconda parte del parco che era stato inaugurato mi sembra un paio di anni fa di fianco al castello e purtroppo anche la condizione interna del castello lascia sempre a desiderare ci sono sempre dei buchi dei fori attraverso cui entrano i piccioni che sporcano nelle stanze e che purtroppo non sono ancora stati chiusi speriamo che si faccia qualcosa il più presto possibile un auspicio ripetuto più volte a cui però non sono mai seguiti fatti concreti l'anno prossimo come detto ricorrono i 500 anni della battaglia di Pavia il castello di Mirabello non potrà essere ignorato sono tanti gli aneddoti che riguardano da vicino un evento che ha cambiato le sorti dell'Europa nella mia ultima pubblicazione parlo ovviamente della battaglia di Pavia e in particolare di un personaggio che ritrovò la morte non tutti sanno infatti che non fu solo la cattura di Francesco I a cambiare oltre alle sorti della battaglia anche indirettamente alle sorti dell'Italia e dell'Europa ma probabilmente fu anche la morte di questo personaggio inglese questo pretendente alla corona inglese che da anni era una spina nel fianco dei Tudor in particolare di Enrico VIII il famoso Enrico VIII e che morendo Pavia fece tirare un sospiro di sollievo appunto al re d'Inghilterra perché si tolse in questo modo la preoccupazione di un pretendente pericoloso al proprio trono era l'ultimo servizio io vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione di Enrico VIII Grazie a tutti.